Ed eccoci a mercoledì 20 febbraio 2019, bentornati su CiperTV, oggi abbiamo 4 minuti unwrap, 27 burpees, 27 wall ball, 27 chest bar pull up, poi abbiamo 4 minuti di riposo, di nuovo 4 minuti unwrap dove faremo 21 burpees, 21 wall ball e 21 toast bar, 4 minuti di riposo e per concludere 4 minuti unwrap con 15 burpees, 15 wall ball e 15 pull ups. Pesi scalature come al solito sulla grafica qui di fianco, ci vediamo domani giovedì per il team WOD tutti insieme, ciao e buona giornata.